Canzoni, canzoni, di canzoni, stazioni, abbiamo fatto una giornata, era tutta la fare. La luna ci ha preso, e ci ha messi a dormire, o a cerchiare la voce, restituirci ultimare. Dove degli anni fossero obbligi, a dire che sì, è tutto possibile. Dove gli anni fossero obbligio, o a cerchiare, tanto fa di coriare, tutto il mare, con la muscolità più giusti, dentro di questo terzo, Grazie a tutti. 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 Allora, volevo dirvi che questa sera è stata per me per la nona volta l'esperienza veramente speciale che ha a che fare con la magia del potere suonare con l'orchestra dell'Arena di Oro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.